Ragazzi ho capito tutto, perché praticamente vedete queste pecore e pure questi polli sono tutte al di fuori della foresta degli alberi maledetti E praticamente in questa foresta Ellie, se noi proviamo ad entrarci adesso, in teoria non c'è assolutamente niente Questo vuol dire che gli alberi possono avere un'influenza sulla cacchio di fauna, cioè sugli animali Sì è vero, ho notato questa cosa Non so se prenderla come una cosa positiva o negativa, guardate non c'è anima viva qui in questa foresta Infatti ci sono gli alberi, cacchio, oh mio dio, questa cosa l'ho notata prima perché ho visto lì un sacco di pecore, un sacco di robe E mi ricordavo prima nello scorso episodio che dicevamo, ma ragazzi avete presente che non c'è niente all'interno di questa foresta Cioè non c'è assolutamente niente, nessun'anima viva, è tutto troppo spento, non ci sono animali Dicevo questa cosa, e adesso ho capito, ho capito perché Sono gli alberi, è vero? Sono gli alberi, cacchio E aspettate adesso mi spiego meglio perché voi avrete visto questa casa di tema Dunis, che cacchio, cos'è successo qua no? Com'è comparsa questa casa in effetti si diranno no? Eh bro, questa è una bella domanda perché non lo so nemmeno io, cioè abbiamo trovato questa casa camminando un po' in lungo e in largo Che in realtà era abbastanza vicino E praticamente Ehm, boh abbiamo trovato questa casa però all'interno Allora adesso senza entrare immediatamente all'interno perché prima vorrei farvi vedere un'altra cosa che abbiamo trovato lì Però all'interno Non tornerai troppo che ho paura Oh mio dio, senti stammi dietro perché abbiamo un sacco di cose da vedere Allora vedi, lì c'è una piramide, ma prima, 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 prima Allora questa qua è la casa Dobbiamo, ad una certa, dopo che torniamo dalla piramide Dobbiamo arredarla all'interno e dobbiamo stare attenti perché mi sa che questi alberi comunque hanno un'influenza negativa su di noi Quindi, sì, potrebbe succedere qualcosa di inaspettato Ci daranno effetti, eccetera, esatto, effetti particolari e strani Quindi dobbiamo sempre stare attenti, cacchio avevo già la crafting table Allora, facciamoci una barca perché qua possiamo fare solo una barca Ok? E vieni Oh, no, 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 no Vedo tutto, tu cosa vedi? Vedo tutto scuro anch'io Eh, lo sapevo, mio Dio, è lì È tutto buio, cos'è successo? Forse gli alberi vogliono che entriamo, non lo so Eh, non ne ho idea Allora, io mi rimetterei, tanto sono solo altri dieci secondi Ho capito, però non è che possiamo andare a caso Perché adesso non mi ricordo più dove era, tipo era avanti circa la piramide Eh, sì, vai avanti Ok, 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 si sta togliendo, si sta togliendo Ok, non andiamo troppo veloce perché potrebbero esserci anche pericoli Ok, la piramide è lì Ragazzi, porca vacca Cioè, avete capito? Quindi, mio Dio, porca puzzarda Puzzardona scurreggiona Troppa paura sta cosa Allora Sì, me la sto facendo sotto, aiuto Cosa faccio? Eh, brutta storia Ma mi sa che qua è tutto pericoloso Magari troviamo dentro questa piramide qualcosa che sarebbe veramente bello Perché ormai, peraltro, queste piramidi non ci sono in Minecraft vanilla normali È abbastanza ovvio È vero, è troppo grande Poi con la sabbia normale Eh, appunto Mettiamo qua la crafting table Non scavare niente Devo scavare io perché io devo andare sotto Prendiamo il ferro e facciamoci una pala di ferro Perché vedo che c'è tanta Sabbia Che va scavata Ma è scavarsi sotto i piedi La prima regola Ma io la sto infrangendo Perché io posso Insomma Cioè, non te io non posso Tu è lunis, puoi tutto Allora, aspetta, aspetta, aspetta Questa è una cassa, in effetti Allora, c'è un martello veramente bellissimo E anche un totem del Ci sono due totem del non morto, ok? E questo è un altro coltello E questa che cacchio No, ragazzi, ci sono un sacco di cose che non so Ritorniamo sopra immediatamente Su, 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 su Ok, allora, ci sono Ma ci hanno dato di nuovo la cecità anche a te? Ah, sì, è vero Non ho voluto interromperti Ecco perché non te l'ho detto Eh, ma porca vacca Cioè, qua Mio Dio, no, 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 no Dobbiamo stare attenti Perché qua potrebbero spunare cose strane Eh, Donis, ma la barca non era tipo qua? No, l'avevamo lasciata lì, no? No, l'avevamo lasciata qua No, 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 cosa stai dicendo? Io mi ricordo che l'avevamo lasciata un po' più lontano Comunque Allora, mi hanno dato un po' di cose Tipo questo martello qua Spam! No, aspetta, spam! Aspetta, se ti do un coso Ho paura di ucciderti Ho paura anch'io Spam! Aia, fai un vale! Quanto? Cinque cuori Porca vacca Quindi è veramente potente Però anche tu hai una tua cosa Che è questo coltello un po' storto Un po' come te a volte Eh, anche tu sei storto ogni tanto Il personaggio si impazzisce Eh, ma poi scusami Io ho l'armatura di ferro Ma tu no? Eh, sì Tu sei stato in caverna Non so io Eh, ma io ho il ferro Possiamo farti l'armatura di ferro Eh, se riesci, sì Ok, allora Eh, poi c'ho anche questo totem del non morto E anche queste mele d'oro Che ti devo dare, Tom Grazie Io però ho questo corno Ma bellino! Ma che cacchio sta succedendo? Ma what? Ma ragazzi Ma non è normale come cosa? Ecco, finalmente Ah Bene, 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 bene Ehm Adesso Siamo decisamente più forti di prima, Elie Cioè con questo martello Guardate Spam Spum Spaff Che bello Stai colpendo l'aria Vabbè Vabbè, certo Vuoi preferire Torniamo alla casa? No, no, no Ah, ok, perfetto Mammae Dai, andiamo a casa Peraltro c'è pure questo tramonto Senza solar Perché ci sono gli alberi in questo mondo Quindi Ehm È giusto così Cioè solar in teoria non c'è Già ci passano gli alberi Sinceramente Sì, appunto Che poi se vediamo da lì Lontano ci spiano Che è difficile Vedete? Lì si vedono da lontano Ci spiano Oh mio Dio Che cosa inquietante Mamma mia Non sai quanto Mi sto spaventando troppo Guarda Però tu adesso Mentre costiamo la casa Devi stare forte Forte Devi stare Forte Esatto Esatto Anche perché qui Ah Dentro la casa Potrebbe essere maledetta No Che cacchio stai dicendo Pure tu Ma Vieni che sta diventando notte Non abbiamo nemmeno La cosa delle torce belle Ok Ok Beh Ok allora dobbiamo andare a prendere Un po' di pecore Perché qua Il discorsetto È che sta diventando notte Quindi ragazzi Noi dobbiamo dormire Peraltro pure nella nuova casa Eccoti qua Pecora Sbam Eh vabbè Con un colpo ovviamente La faccio fuori Vieni la crafting Te l'ho portata qua Ma grazie Sei stato veramente intelligente Hai visto Allora così No ho sbagliato Così E poi così Eccoti qua Il tuo lettone Perfetto Grazie Adesso entriamo in casa E Qua possiamo dormire Prima di tutto Decidiamo dove cacchio Farci la Le camere da letto Tutte le cose Perché sai sono utili Beh Sì La casa è bella grande Da quello che vedo Ragazzi Guardate qua Cacchio Aspetta Madonna quanto fastidio Mi danno tutte queste cose Nell'inventario Dobbiamo farci anche Uno storage Cioè un posto Dove ci mettiamo Tutte le casse Eh sì Guardate quanto è grande Questa casa Oh mio dio Ma che bello È veramente bello Ma è enorme Ma è Guardate Ci sono le scale a pioli C'è di tutto E di più Guardate Questa è proprio Una casa assurdamente grande Spero solo che non sia maledetta Perché cosa sto vedendo Cosa sto vedendo adesso Eh Ti sto vedendo Tipo Storto Ma anche tu sei storto E poi sei storto anche nel modo in cui parli a volte Però non ti dico niente È uno Stare Guarda qua abbiamo pure Per farci Per bere il tè sul terrazzo No basta Andiamo Non è abbastanza È sul terrazzo Sì Non so cosa mi è preso È che Va bene Ok Non dico niente Ma hai rotto la casa qua Eh vedo Sarà perché è tipo una casa abbandonata Quindi bisogna anche proprio sistemarla Ragazzi Eh qua senti Chiudiamo per il momento con qualcosa Se no Possono entrarci Ok perfetto Però dobbiamo farci proprio del vetro Delle cose Ok Eh sì Piano piano mi faccio un po' di sabbia Te lo faccio io Però che cosa Stai dormendo? No è sonno C'ho sonno C'ho sonno È notte sai Dormiamo? Bella scusa Va bene Allora dormiamo Dove dormiamo amico mio? Direi che per la prima notte potrebbe andare anche qua Va bene Allora ci facciamo un pochino Allora Facciamo che una parte della nostra Della casa è mia E una parte della casa è tua Eh In effetti è molto grande Sì È un'idea Non è niente male Ma è nascuro anch'io No Allora stiamo attaccati Dove sei finito? Perché qua è pericoloso Sono qua sono qua Armiamoci delle nostre armi Ok Il tuo coltello è un po' storto Va bene Però Storto ma forte Sì giustamente Allora non c'è nessuno Forse Ma stiamo attenti Perché qua potrebbero ucciderci male No 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 Dove si va? Devi star vicino a me Quando Sono qua sono qua Allora fermo un attimo Togli un attimo il coltello di mano Perché devo dirti due cose molto chiare Quando succedono queste cose pericolose Tu devi starmi vicino Scusa Scusa Perché non sai cosa potrebbe succedere Ok Allora Qua che cacchio c'è No raga Ma che cacchio di No Sono rimasto chiuso Ma porca vacca Guarda per fortuna C'erano i pulsanti Se no Venivo lì e ti uccidevo Ci sono questi L'hai notato? Oh mio dio Allora in effetti Questo mondo Ci sono abbastanza abituato A vedere queste facce Ma non è normale Che ce le abbiamo pure in casa Allora ecco perché Forse non possiamo avere Il legno maledetto Cioè è la cosa più ovvia Che mi viene da dire Cioè questo è un legno maledetto Eccoci Di nuovo Stiamo attenti E siamo vicini Ok? Allora mettiamoci delle torce qua Perché qua se vedi È tutto all'aperto Quindi Ok mettiamoci le porte E qui buttiamo via questa porta Così non ci serve niente Può servire Esatto Qui Ok iniziamo ad arredare un po' di cose Tipo mettiamo Ci sono delle casse in questa casa? No Devi chiudere le porte dietro di te Hai la coda per caso? No no Abbiamo trovato la cucina ragazzi Come vedete Allora Sembrano tutti quanti blocchi di Minecraft Sembra una cucina Blocchi classici Sì potremmo anche lasciarli così Secondo te Sì E qua c'è addirittura un dispenser Che se tu premi Ti da Adesso Se io mettessi tipo Un po' di pollo qua Tipo così Faccio così Premo qua E mi da direttamente il pollo Avete visto? Non è male come cosa Potremmo utilizzarlo Chiaramente Potrebbe starci con Dei blocchi più moddati Però vabbè Questo magari In un altro momento Poi qua Avevo detto Che avevo trovato delle casse E qui in effetti Queste casse sono Quelle che avevo visto io Ed era da questo lato Del Da dove si vedeva Peraltro pure la piramide Ok Allora potremmo utilizzare Questa parte Ma mi sa che questo è più Lo storage della cucina Dove ci metteremo Tutte le cose del cibo Le cose Interessante Come cosa Io direi di fare però Uno storage Più Adatto Tipo alle armi Al combattimento Sai com'è Tipo Scurreggione Allora Adesso Però ci serve Un armor stand Tu sai come si fa No Ah dai Però Eh sono un abbo Scusa Ma smetti Ma scusami Ma perché non giochi a minecraft Cioè tu fai tutto quanto La cosa Rollplay Smettila Non è simpatico Cioè tu devi sapere Prima di tutto La vanilla Come si fa Allora Non so se Cosa c'è E' sfornata una Una testa Ma che cacchio Stai dicendo Ma no Me l'aspettavo minimamente Chi è che l'ha messa qua Non lo so Raccogliamola Tu sei Cosa Addormentato No 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 Sono qua Sono qua Sono Pronto Ok bene Meno male Allora Qui Ti dico io come si fa Si fa con la fornace E poi dopo si fa con Cuocendo la pietra Così Ok Invece facciamo E non si cuoce Ah si invece che si cuoce Meno male E ci facciamo le armor stand E ci mettiamo delle armature Magari carucce Carucce Poi qui Ah c'avevo Dell'altro carbone Dobbiamo fare uno storage Qui praticamente Per fare delle casse Quindi Facciamo delle casse appunto Quindi Così Così Ok Allora Dove che potremmo fare le casse Cosa che potremmo Dove che potremmo mettere le casse Qui direi Ok una qua Direi di metterci anche tipo Quelle cose che indicano Quali armi ci sono Ricordiamo Cartelli? Esatto No Non proprio dei cartelli Delle Item frame Bravo Bravo Meno male che ti sei ricordata Perché io non mi ricordavo Niente proprio Sono un po' nabbo come te Però allora Così E poi così Allora No aspetta un attimo Come si fanno a fare quelle cose Mi sa che non era così Oddio Oddio no Però scusami Tu c'hai la J No Tu cerchi Armor stand Perché non ti viene in mente Di cercare armor stand Come si fa questo Con dei blocchi di stone Come si fa la smooth stone Ah Ah ma ci serve della pelle Per fare l'item frame Cosa stai dicendo Ma non è vero L'ho cercato Ah per l'item frame Certo Certo Io pensavo per l'armor stand Allora No Così però Eh no cacchio Ci servono più blocchi Di questi qua Infatti così Ok Quindi Forse così si ritorna indietro Non si può ritornare indietro C'era la smiting table Che praticamente Ti permette di modificare i blocchi Sarebbero utili queste cose Eh Però Dovremmo trovare un villaggio Tipo Per farlo Oh cos'è sto rumore Oh Cos'era Eh mi sa che la notte Intensifica tutte le cose paurose Ed inquietanti Eli Eh sì Mi sto Mi sto chiamando S'aiuto Ma Cos'è No 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 Poi tu ti sei allontanato pure dal microfono Ho preso danno Ho preso danno Com'è possibile Hai preso danno Come Sì Assurdo Oddio di nuovo Ho già visto stavolta Eli ma cosa sta succedendo Perché sto prendendo danno in sto posto Tira fuori la lama Eh ho capito Però non se non Aiaia Non ho un cuore e mezzo Un cuore No 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 Eli Dobbiamo andare a dormire Mangia mangia No no andiamo a dormire Perché questa cosa è Ma mangia Rigenerati mentre Ho capito Sto mangiando Allora questa cosa è successa Mentre è diventata notte Dormi dormi Veloce prima che moriamo Dormo dormo Veloce 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 Oh Oddio 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 Ho un cuore e mezzo Però è giorno No 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 Perché non dorme Perché non dorme Deve diventare giorno Accidenti Dai su Ok perfetto Oddio meno male Meno male meno male Ci stavo per morire Sono morto di nuovo Ma che cacchio Com'è possibile Sei morto No perché sei morto Vabbè però Sono sponato qui Sono sponato qui Ok Sai hai dormito qua È normale no Sì Ma adesso Perché sono morto Cioè perché faceva così Non lo so Ma non è normale Dormire ti ho ucciso Praticamente No non era dormire Perché io ho iniziato A prendere danno Anche da prima E poi solo io Scusa tu no Ehm no Eh che strano Questo ragno È antipatico Quindi Un ospite desiderato Era Aia Anche io ho preso danno No ascolta Però questa cosa Non è possibile È giorno Non è che Prendiamo danno a caso Cioè ci deve essere qualcosa Che ci fa prendere danno Per forza Eh quindi Allora facciamo così Facciamo un blocco intero di pietra Senti come cacchio si fa la pietra Forse lo so Forse so che cos'è Sono quelli Sono quegli alberi E ho capito ma Cosa dovevamo Togliere queste cose allora Dovemmo togliere questo legno Sì Ho capito ma tu sai quanto legno c'è Vabbè Inizio a toglierli allora Inizio a toglierlo sì Comunque c'hai ragione Non è normale tenere delle cose all'interno Dei Anche perché poi siamo vicini Prima Stavano non stavano prendendo danno Quando non eravamo vicini a sti legni Quindi Potrebbe essere per quello che dici tu in effetti Però ho capito ma guarda qua Cioè è dappertutto sto legno Non è Cioè scusami è proprio Porta Cioè Dovremmo rifare tutta casa Praticamente Eh appunto come facciamo Accidenti No 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 Stiamo continuando a prendere danno E li aiuto Anche io sì Sono sempre con meno cuore Aiuto Cosa facciamo Quante crafting stai facendo Eh infatti Lascia perdere guarda Che il panico Eh sì Troppo panico Allora così 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 E poi così Poi davanti casa Davanti porta Che pizza Mamma mia Ok però così si Si taglia molto prima Fatti un'ascia in ferro Tu c'hai il ferro? Eh sì Ce l'ho Ok bene Allora craftati un'ascia in ferro Così si prende decisamente Tutto quanto molto prima Bro cioè È assurda questa cosa Perché Questo legno È veramente Molto maledetto ed inquietante E questa cosa non va bene Cioè dobbiamo cercare di toglierlo Prima possibile Prima che la nostra casa esploda Dobbiamo sbrigarci Eh vabbè ma questo è un muro infinito Praticamente No sto così finendo bene Dai Tu No Duniz Duniz È spavolata della TNT Come della TNT Guarda vieni Eh dai ma L'hai messa tu No L'hai messa tu Non posso craftarla Se quindi se io ti prendo Perché non riesco a prenderti a pugni? Stava lagghiando il server Se io ti vedo Se io ti scopro In creativa che mi cerchi di fare gli scherzi Tu non ci metti più piede all'interno di questo mondo Io te lo dico Non ho messo TNT Non ho fatto niente Giuralo Giuro Va bene Allora ti credo D'accordo Ragazzi Non credo sia lui Lui con queste cose Non spergiurerebbe mai Cioè lo conosco molto bene Non è uno che spergiura Quindi Conosciamo da anni È normale che io Se ti giuro Con una cosa Allora È feritiera Esattamente Quindi Ti credo Ti credo Va bene Non stai facendo niente No 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 Ho fatto tutto questo muro Ma non è vero Ti stavo aiutando Io ho tolto tutta questa cosa Ho detto di farti lascia in ferro Perché non te la stai facendo Dai veloce Taglia Questa cos'è Allora perché non hai fatto niente Stai bighellonando No ti sto aiutando Stai bighellonando Ma stiamo prendendo danno Stanno sponando TNT in casa E tu stai pensando a Non lo so A grattarti Cosa fai No La pancia ti gratti ovviamente È un po' di prurito Sì Eh Va bene Però adesso In effetti Vedi Il lavoro per due è meglio Comunque Sta diventando abbastanza noioso Quindi finisci tu Allora Sì finisco io Non ti preoccupare Questi polli rompono le scagnozze Ma non è che anche i polli Sono scagnozzi Di questi alberi Perché ce li siamo ritrovati In casa A caso Io direi di Per lustrare la casa Per trovare Eccoli qua Eeeh Sto prendendo danno Quanto hai preso? Ho preso tipo Tre cuori e mezzo di danno Ma se provo a fare Il goat horn Magari toglie tipo Le energie negative della casa Oh No 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 Eh Ma ha preso più danno Eh Forse hai richiamato Gli spiriti della casa O forse gli ho fatto danno anch'io Ma Magari tipo Gli spiriti Tra virgolette spiriti Sono Possono Sono vulnerabili Al Corno Oh Sto prendendo Non suono il corno Sono il corno Ok Ha smesso Ha smesso Di darmi danno Quando ho iniziato a suonare il Corno Cioè questo coso qua Praticamente Cioè Ti ha protetto Sì esatto L'ho risuonato per sbaglio Questi non c'erano No Questi non c'erano Eh Togliamoli Non è che tipo si diffondono Come un virus Come un Come i funghi Hai presente come si diffondono i funghi Sì come una piaga Come una piaga esatto Cos'è stato? Non lo so Ma tu hai sentito Cos'era? Ma tu senti qualcosa Io sto sentendo un rumore Ma no 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 Aspetta Giuro Anch'io sto sentendo qualcosa Sto sentendo con te E su minecraft Non sto capendo Non lo so neanche io Avevo sentito qualcosa Raga non so se stiamo impazzendo noi due Oppure c'è veramente qualcosa Io vi giuro Ho sentito come un Una roba del genere Non so come dirti Come un qualcosa che si avvicinava a noi E poi dopo Se ne andava Tipo Come se ci possedessero Una cosa del genere Non so veramente È troppo inquietante È veramente troppo Poi I lavori a questa casa sono infiniti Cioè è veramente infinito tutto questo Perché è una casa veramente enorme Non so se È vero Non so se Cioè sembra infinito Cioè L'hai ripetuto già tu Quindi è meglio che non lo dico Però guarda qua Cioè Abbiamo tolto tutte le cose Quindi non sembrano rispawnare Però Gli alberi sono rispawnati Sono estinci Cioè sono espansi prima Quindi forse questo corno Ci protegge anche dall'espansione degli alberi Bosa? Vabbè ma raga Ma questa cosa non va bene Prendi la testa Perché io non voglio averciare nell'inventario Ehm Non lo so Iscrivetevi al canale Lasciate un sacco di like ragazzi Perché veramente questa serie L'hai messa tu Sì Questo è uno schiacetto Dai Questo ci sta Perché ti avevo visto pure in F5 Ne ero sicuro Commentate anche Quanto fa 2 più 4 Perché io so quanto fa Cioè credo più o meno E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao